Se qualcuno non vuole lavorare, dice la parola di Dio, neppure deve mangiare, aspettando con pazienza Cristo che ci rivelasse cosa significa questo versetto. Quando Paolo si rivolge alla chiesa dei tessalonicesi, se qualcuno del gruppo della chiesa non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Fratelli, dice, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, dice Paolo. Ma in che senso i tessalonicesi si comportavano disordinatamente? Che cosa dice la parola? Che cosa rivela la parola? Attenzione! Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, dice Paolo. Voi stessi, tessalonicesi, sapete come dovete imitare l'Apostolo e gli altri che sono insieme con l'Apostolo. Come lavorano loro? Voi sapete come dovete imitare perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. E cioè, ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane, non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Abbiamo lavorato per trasmettere un messaggio, aspettando Cristo, ricevendo rivelazione, mangiando il pane, parlando, parlando agli altri. Il Signore dice, non abbiamo mangiato gratuitamente il pane dell'altro, non abbiamo imitato l'altro, un fratello, in ciò che fa lui. Ma abbiamo lavorato per trasmettere un messaggio al popolo. Attenzione, non che ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Lavorare per portare la parola di Cristo, aspettando che Cristo si rivelasse alla nostra mente, alla lettura. Perché il Signore dice, il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio. All'amore di Dio, sperando che Dio si rivelasse nella parola. E alla paziente attesa di Cristo, che Cristo ci rivelasse. Ci rivelasse il messaggio da trasmettere alla gente. Ma il Signore ci chiama a lavorare e a non copiare altre persone. Quando trasmettiamo il nostro messaggio, aspettiamo con pazienza che Cristo si rivelasse. Aspettiamo, espiriamo nell'amore di Cristo che si rivelasse per mangiare, per parlare agli altri con ciò che noi abbiamo lavorato giorno e notte. Abbiamo pensato, abbiamo pregato, abbiamo chiesto che Cristo si rivelasse nel testo che noi portiamo alle altre persone. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo. Che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Neanche dobbiamo parlare se non lavoriamo. Di fatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Possiamo presentarsi davanti al popolo e dire cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente, lavorando per ciò che presentiamo agli altri. Il Signore ci chiama a lavorare, imitare Paolo, lavorando per presentare il nostro pane. Attenzione, ma non imitare il pane dell'altro, il video dell'altro, la presentazione dell'altro, il materiale dell'altro. Attenzione, lavorare per il proprio pane. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Attenzione, che Paolo chiama come comando di fare questo. E se uno non ubbidisce a fare questo, il Signore dice, se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, ditelelo, dittelo a quella persona. Hai copiato il testo dell'altro, hai copiato la rivelazione dell'altro. Non farlo, non attenzione, e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni, però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Quindi è questo l'invito che oggi, che la parola di Dio dà a tutti coloro che insegnano gli altri. Dice il Signore, per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Quindi il Signore si rivolge la parola di Dio ai tessalonicesi, che è una chiesa, ma attenzione che il Signore rileva che ci siano, che ci sono uomini molesti e malvagi tra di voi, non hanno fede, anche se in apparenza sembra che hanno la fede, se sono lì, se sono presenti lì, ma il Signore fedeli e deli vi renderà, saldi e vi guarderà dal maligno. Quindi nello stesso posto ci possono essere persone buone e persone malvagie. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Attenzione che Paolo, la parola di Dio, ordina le cose, dice le cose come comando. Ci possono essere nella stessa chiesa persone che si siedono in alto, su posizione alta, ma che parlano cose che il Signore chiama latte, non cibo solido, latte. E queste persone, il Signore dice, parla di maturità spirituale, di ciò che una persona parla. Infatti dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Ci sono persone che sì, dovrebbero essere maestri, sono seduti in alto, in posizioni alte. Posizioni alti, da maestri. Eppure invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio? Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Quindi la giustizia. Quando una persona ha capito ciò che è giusto e ciò che non è giusto, è adulto. E può parlare. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli che, cioè, che per via deluso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E questa è la posizione di un maestro. Secondo Dio, un maestro che lavora in giustizia. Sa discernere il bene e il male. Il signore mi rivela che cosa, che parabola utilizza per colui che sta nella posizione di maestro ma che insegna alla gente cibo che non è solido, cibo di niente, non porta niente alle persone. Dice la parola del signore in Isaia. Così parla il signore Dio degli eserciti. Va a trovare questo cortigiano, Sebna, prefetto del palazzo Edili. Quindi è un cortigiano, è un prefetto del palazzo, ha una posizione. Ma il signore dice, va a dire a quest'insegnante, a questo maestro che hai tu qui e che hai tu qui che ti sei fatto scavare qui un sepolcro. E come stare in un sepolcro quando un maestro ha una posizione alta ma sta lì, sta lì. Scavarsi un sepolcro in alto, lavorarsi una dimora nella roccia. Si può sedere in alto? Avere una dimora nella roccia, avere un palazzo, essere prefetto, avere posizione eppure il signore chiamare. Chiamare così questa persona. Che hai tu qui e che hai tu qui che ti sei fatto scavare un sepolcro. E come stare in un sepolcro quando parliamo alla gente ma non portiamo nulla. Mangiamo latte. Abbiamo bisogno di essere di nuovo ammaestrati. Ecco il signore ti lancerà via con braccio figuroso farà di te un gomitolo ti farà rotolare, rotolare come una palla sopra una spaziosa pianura. Non lascia il signore una persona che si scava una dimora nella roccia e sta come in un sepolcro e parlare alla gente. Non la lascia. Il signore non la lascia. Io ti scaccerò dal tuo ufficio e tu sarai buttato giù dal tuo posto. Non lascia il signore. Le persone in quella posizione ma che non mangiano più cibo solido. In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliatim figlio di Chilchia lo vestirò della tua tunica le allaccerò la tua cintura rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Quindi c'è una persona oggi un maestro della parola di Dio che ha posizione ha autorità ma il signore lo vede come in un sepolcro. E gli dice io vestirò della tua tunica le allaccerò la cintura un altro rimetterò la tua autorità nelle sue mani e gli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Il signore vuole un padre in cima al popolo che sa distinguere il bene dal male. Ma attenzione che su in quella posizione di prefetto di autorità con autorità ci possa stare una persona che sta come in un sepolcro e imita gli altri altre persone e non aspetta che il signore lo visiti e gli riveli ciò che deve mangiare ciò che deve dire agli altri. e dice il signore farò venire chiamerò Eliakim chiamerò un altro al posto tuo metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide e li aprirà e nessuno chiuderà e li chiuderà e nessuno aprirà. Quando una persona un maestro della parola apre qualcosa perché viene da Dio nessuno può chiudere e quando un maestro chiuderà qualcosa dirà non va bene lo chiuderà nessuno lo aprirà è così il servo di Dio il maestro di Dio quando come Davide si sale in alto in una posizione alta di re se guardiamo la sofferenza di Davide che lo ha fatto scrivere così tanti salmi e dalla sofferenza che arriva la perfezione benché fosse figlio è questo il modello di un grande maestro benché fosse figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e la sofferenza che porta alla perfezione e reso perfetto divenne per tutti quelli che li ubbidiscono autore di salvezza eterna essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec è questo il modello di un grande maestro un figlio che soffre per essere perfetto chiudo con Paolo come ci dobbiamo come come dobbiamo chiudere come dobbiamo scrivere il saluto è di mia propria mano di me Paolo questo serve di segno in ogni mia lettera è così che scrivo che sia la nostra firma Paolo che sia la nostra firma il nostro nome che porta la parola di Dio che deriva dalla sua rivelazione dalla sua sofferenza dalla dall'amore di Dio dall'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo Amen